Quando confidiamo troppo in noi stessi e non nella grazia di Dio, allora il maligno trova la porta aperta. Ma il padrone non se ne accorge? No, perché questi sono i demoni educati. Entrano senza che tu te ne accorga. Bussano la porta, sono cortesi, va bene, va avanti, e poi alla fine comandano loro nel tuo animo. Allora, state attenti a questi diavoletti, a questi demoni, quel diavolo educato, quando fa finta di essere un gran signore, no? Perché entra con la nostra per uscirne con la sua, no? Custodire la casa di questo inganno dei demoni educati. E la mondanità spirituale va per questa strada sempre, no?